E' un modello economico alternativo completo che si differenzia sia dal capitalismo che dal comunismo, il cui obiettivo principale è l'aspirazione al bene comune da parte delle imprese e la massimizzazione dello stesso nell'economia nazionale, misurabile attraverso nuovi indicatori di performance economica come il livello del bene comune nelle imprese che rileva il grado di raggiungimento dei valori di una società da parte di ogni impresa, a cominciare dalla dignità umana, dalla giustizia, dalla sostenibilità fino alla democrazia. Il PIL del bene comune a livello di economia nazionale misura direttamente il raggiungimento degli indicatori di qualità della vita e del bene comune. Seguendo questo modello i prodotti più etici, responsabili e ecologici sostenibili saranno più competitivi rispetto a quelli meno giusti e meno sostenibili. Pertanto le imprese più responsabili ed etiche resisteranno sul mercato, mentre le altre ne usciranno e le leggi del mercato coincideranno con i valori della società. Abbiamo iniziato un anno e mezzo fa, alla fine del 2010, e fino ad ora hanno già aderito alla nostra organizzazione più di 750 imprese di 10 paesi. Aumentano ogni giorno di più e auspichiamo di raggiungerne migliaia nei prossimi anni. I paesi da cui provengono queste imprese sono Italia, Austria, Svizzera, Germania, Spagna e America Latina, più un'impresa egiziana con 2000 dipendenti. Il riscontro del movimento è quindi già globale. In Italia abbiamo iniziato circa un anno fa, nel nord, e ora il movimento si sta diffondendo nel resto del paese. Abbiamo grande richiesta di adesioni da parte di università, città, fino alle confederazioni imprenditoriali. Nei prossimi anni auspichiamo di raggiungere una diffusione ampia e profonda in tutta Italia in tutto il vostro paese. Abbiamo fatto una diffusione molto ampia e profonda in tutta Italia in tutti i anni che vengono. La strategia è che offremmo la partecipazione a le unidades menore della società, cioè a cada empresa può fare il balance, il bene comune, a cada persona privata può creare un campo di energia, un gruppo di supporto, e a cada municipio, a cada comunità politica può convertirsi in una comunità del bien comune. E di questa forma sarà un processo che cresce da lì a lì, e questa è la strategia che speriamo.